Questi i titoli di oggi. La crisi abitazione a Belluno e provincia, i comuni veneti dimenticano la lotta all'evasione, sostegno e solidarietà alla protesta delle donne in Iran. Ci ritroviamo dopo la pubblicità. Ben ritrovati a tutti con l'informazione del sindacato dei pensionati della CGL di Belluno. La crisi abitazione a Belluno e provincia, casa dolce casa, vuota però oppure locata per brevi periodi. Correva l'anno 2016 e Belluno svettava nel Veneto e in Italia per le case sfitte 66.347 immobili non occupati, oltre il 40% a fronte del 22,5% nazionale. Certo il dato era un po' condizionato dalle case per le vacanze, dagli immobili vecchi e non più abitabili, però i numeri erano incontrovertibili. Passati sei anni dalla diffusione di quei dati, ci ritroviamo in una situazione uguale se non peggiore rispetto ad allora. Professori e lavoratori da fuori, costretti a vivere in B&B, gli affitti, una chimera. Questo il titolo di un articolo apparso in questi giorni sulla stampa locale. A fronte di un appartamento messo in affitto ci sono decine e decine di persone che lo chiedono. Questo eccesso di domanda, oltremodo, fa lievitare ulteriormente il canone richiesto. Oggigiorno giovani e lavoratori, per avere una locazione, sono purtroppo costretti a sottoporsi ad un esame di idoneità economica. Prima di affittare caso o appartamento, il proprietario spesso chiede la denuncia di redditi o la busta paga, per avere l'assicurazione che gli eventuali affittuari possano pagare il canone. Se la situazione a Belluno non è erosea, meglio non va nel resto della provincia. In tutti i comuni delle cosiddette terre alte, i proprietari ed immobili preferiscono ad affitti pluriannali quelli di breve periodo a turisti e villeggianti. Maggiori le entrate, minori i rischi. Medici, insegnanti, collaboratori scolastici, impiegati del settore alberghiero, migliaia di lavoratori necessari alla nostra provincia non riescono a trovare una casa in affitto. È evidente che con l'attuale situazione abitativa caratterizzata da mancanza di immobili dati in affitto e da prezzi elevatissimi, sarà sempre più difficile trovare i lavoratori che siano disposti a venire a lavorare e a vivere in provincia. Purtroppo, meno lavoratori nella pubblica amministrazione corrispondono a meno servizi e quando si hanno meno servizi, più la montagna si spopola, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Oltre che per i lavoratori, l'abitazione è un problema sociale che riguarda anche i nostri ragazzi che vogliono uscire dalla famiglia e le nuove coppie. Se il mercato non offre casa in affitto a prezzi ragionevoli, non ci si sposa, non si fanno figli, si resta in casa con i genitori. Dal 2016 poco o nulla è cambiato, l'emergenza abitazioni in affitto rimane una priorità da risolvere. I nostri giovani, i lavoratori che vogliono ritagliarsi un futuro nella nostra provincia, vogliono meno parole e più fatti. Bollette. Mercato libero contro mercato tutelato. Una delle domande che in questi giorni di crisi energetica e di aumenti spropositati delle tariffe ci vengono fatte dai nostri iscritti allo SPI è questa. Attualmente sono ancora nel mercato tutelato. Devo passare o no al mercato libero? Una risposta semplice e valida per tutti purtroppo non c'è, però dare alcune informazioni è doveroso. Attualmente in Italia il mercato delle energie si divide il mercato libero e il mercato tutelato. Salvo controindicazioni, l'obbligo di passaggio al mercato libero è fissato per il 1 gennaio 2024. Fino ad allora si potrà usufruire anche di quello tutelato. Nel mercato libero le tariffe possono essere di due tipi, a tariffa fissa e a tariffa variabile. Da ricerche fatte fra le due l'offerta più conveniente attualmente e da noi consigliata è certamente quella a tariffa variabile. Anche rispetto al mercato con maggior tutela i contratti a prezzi variabili sono leggermente più convenienti. Con il mercato libero a prezzi variabili l'utente risparmia circa il 3% sul gas e il 6% sulla luce. Non certo una svolta ma meglio che nulla per l'economia familiare. Nel portale offerte della Rera si possono vedere le proposte dei rivenditori di luce e gas per una nuova attivazione. Bisogna fare molta attenzione perché basta pescare il secondo terzo contratto in graduatoria per rimetterci centinaia se non migliaia di euro. Certo è che la preoccupazione dello SPI Belluno per questa situazione di caro energia che impoverisce centinaia di famiglie è massima. Al caro luce e gas da qualche mese si è unito anche il caro legna e pelle. Su queste fonti energicamente alternative tanto cari i nostri anziani la speculazione è attiva al massimo. La legna è salita da 12-15 euro il quintale dell'anno scorso ai 25-35 di quest'anno. Il pelle dai 4-5 ai 12-17 e il sacco da 15 kg. Lo SPI di Belluno si è attivato presso il prefetto per attivare una vigilanza contro gli aumenti speculativi. In attesa di aiuti concreti che possano dare sollievo a famiglie e imprese c'è in tutti noi la consapevolezza che questo sarà un inverno lungo e che purtroppo porterà povertà e ristrettezze a molti. I comuni veneti dimenticano la lotta all'evasione. 148.449 euro apparentemente una bella somma. Forse sarebbe stato il costo di un mini appartamento. Se pensiamo che questa cifra è stata recuperata nel Veneto nel 2021 dalla lotta all'evasione fiscale ci rendiamo conto di quanto stridente sia questo dato rapportato a questo momento di difficoltà economiche e sociali che stiamo vivendo. Da giorni sui quotidiani locali sempre più si parla di reintrodurre l'addizionale IRPEF per si dice dare sollievo alle famiglie in difficoltà e potenziare servizi quelle case di riposo eccetera. Poi a fronte di tale richiesta leggiamo questi dati diffusi dal ministro degli interni. Col decreto legge numero 203 del 30 settembre 2005 si dava l'opportunità ai comuni di partecipare all'accertamento fiscale individuando e segnalando attività in nero, opere abusive, evasione delle tasse locali, dichiarazioni dei redditi fasulle per accedere a benefici e agevolazioni e molto altro ancora. Inizialmente la norma prevedeva che l'ente locale potesse trattenere per sé il 30% del recuperato, ora invece può incamerare il 100%. Purtroppo nel 2021 solo 19 amministrazioni locali su 563, il 2,5% del totale si sono concentrate sull'attività di accertamento fiscale contributivo recuperando in tutto il Veneto la modesta cifra di 148.449 euro, il 34,5 in meno dell'anno precedente. Nell'arco di pochi anni siamo passati da 1.100.000 del 2018 ai 227.000 euro del 2020 e ai deludenti per non usare parole più pesanti 149.500 euro dello scorso anno. A livello provinciale Belluno è il territorio meno attivo, per usare un eufemismo, negli accertamenti fiscali, dato che anche nel 2021 nessun comune ha recuperato nemmeno un euro. Insomma l'opportunità introdotta col decreto legge numero 203 del 30 settembre 2005 non viene sfruttata dalle amministrazioni comunali del Veneto, che perdono così l'occasione di recuperare risorse indispensabili per il welfare e in particolare per le persone più fragili come gli anziani. Più che meravigliarsi, se leggiamo che in Italia l'evasione fiscale supera i 100 miliardi di euro e che siamo il primo paese per evasione IVA, in Unione Europea dobbiamo indignarci per questo furto di risorse ai danni delle persone bisognose e dei servizi. Come sindacato chiediamo a voce alta che lo zero degli accertamenti 2021 nel belunese non si ripeta più. Introdurre una eventuale addizionale IRPEF e non fare nulla per recuperare il maltolto non è moralmente accettabile per il rispetto che si deve ai bisognosi e a chi le tasse le paga da sempre. Il 17 ottobre scorso è stato presentato il lavoro dello spiccigelle di Belluno, un libro dal titolo Questa è la nostra storia, un'opera nata per permettere al tempo di lasciare un ormai sul terreno della memoria, costruita appositamente per fermare in pochi fotogrammi la realtà vissuta dagli anni 50 ad oggi. All'interno preziose testimonianze scritte danno il senso emozionando fortemente di quanto è costato emigrare, di quanto abbiamo lavorato, parlato, scritto, faticato, sorriso. Un volume che dà protagonismo alle persone bellunesi. Più che un libro, un viaggio, sono state le persone anziane che hanno frequentato le nostre sedi timidamente a consegnare materiale, fotografie a colori in bianco e nero, testimonianze scritte che lasciano traccia dello sforzo e del sacrificio e del mondo del lavoro che si intreccia con la vita quotidiana. Ora siamo dentro la fase congressuale della CGL. Il congresso è un momento più significativo della nostra organizzazione, in cui ci si riunisce e si discute nelle assemblee territoriali, ci si impegna ad eliminare criticità e ci si impone di perseguire gli obiettivi condivisi nei documenti congressuali. Segna sempre un cambio di passo in congresso. Lo SPI ha voluto per questo momento consegnare ai propri iscritti la memoria degli anni vissuti. Il volume, infatti, questa è la nostra storia, sarà consegnato a tutti coloro che frequenteranno le nostre assemblee precongressuali. La prima assemblea territoriale, aperta a tutte e a oltre che agli iscritti, è indetta per la zona Cadore-Comelico per le lunedì 24 ottobre a Valle di Cadore, alle ore 15 e 30, presso la sala polifunzionale, ex tappa della Ciclabile, questo per dire la località. La seconda, la seconda assemblea, sarà per una parte del Feltrino, anche questa aperta a tutti. Cesio sono invitati tutti coloro che gravitano nel Feltrino, nei comuni di Cesio Maggiore, Santa Giustina, Pedavena, Seren, San Gregorio, nelle Alpi. Questa si svolgerà martedì 25 ottobre, ore 15, in piazza Permeggiani, a Feltre, proprio nella sede dello SPI, nella sala delle donne della Resistenza. Vi aspettiamo davvero con entusiasmo anche proprio di aver consegnare questa opera. Sostegno e solidarietà alla protesta delle donne in Niran. La morte della giovane donna di origine kurde Masha Amini, 22 anni, perché non indossava correttamente il velo, come prescritto dalla morale degli Ayatollah e della sedicenne Asra Panai, perché non canta l'inno dell'Iran, costrette a subire violenze e botte da una zelante squadra della polizia religiosa, ha fatto esplodere la rabbia delle donne iraniane, trascinando la protesta popolare nelle piazze. La protesta che il regime teocratico affronta con convinta durezza, come ha dichiarato da New York al margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite il presidente iraniano Raisi, coinvolge tutte le classi sociali, a partire dei lavoratori che stanno scendendo in piazza accanto alle donne per rivendicare la libertà. Il regime, infatti, utilizza il velo per marginalizzare le donne ed escluderle da ogni ruolo politico, culturale e sociale. Le donne iraniane non si sono arrese ed hanno riempito strade e piazze, trascinando giovani e uomini al loro fianco, trasformando la protesta per le violenze subite in una denuncia del regime contro la repressione delle libertà individuali, contro la corruzione dilagante, gli aumenti dei prezzi e dell'inflazione, che hanno ridotto in povertà milioni di famiglie. Il popolo iraniano non sta chiedendo solo pane e lavoro, ma libertà. A sostegno di queste donne, per la libertà di tutti, CGL e Cisle Will saranno in manifestazione sotto la prefettura di Belluno, in piazza Duomo. Il flash mob si concluderà con il rilascio delle lanterne. Manifestazione per la pace. Il 5 novembre CGL e Cisle Will saranno a Roma per una grande manifestazione a favore della pace e per la cessazione immediata del fuoco. Approvata. Il Consiglio dei Ministri, l'ultimo del governo ancora in carica, si è riunito il 10 ottobre scorso e ha approvato il disegno di legge delega sulla non autosufficienza degli anziani. La nostra battaglia trova finalmente una risposta a una sanità territoriale di prossimità, semplificazione e riorganizzazione dell'accesso ai servizi socioassistenziali, la riforma delle RSA, strumenti per la domiciliarità e in favore dell'invecchiamento attivo. La condizione degli anziani viene messa al centro per non lasciarli più soli al proprio destino e per dare un sostegno concreto a milioni di famiglie su cui per troppo tempo è stato scaricato il peso, spesso anche insostenibile, della cura dei propri cari. Senza la determinazione e il massimo sforzo anche di mobilitazione messo in campo in questi anni nei sindacati e dei pensionati, questo risultato non sarebbe stato raggiunto. Come dicevamo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega sulla non autosufficienza delle persone anziane e finalmente vede la luce una riforma particolarmente attesa da tutto il paese. Considerato il numero sempre più elevato di anziani che vivono una condizione di non autosufficienza, 3 milioni e mezzo di persone ed è un numero in aumento e i problemi che affliggono tantissime famiglie italiane per un totale di 10 milioni di persone coinvolte. La legge l'avevamo chiesta a gran voce da oltre un decennio, come sindacato dei pensionati dell'ospite CGL ma anche FNPC e la UIL e ci siamo a lungo mobilitati per spingere la politica a intervenire e per dare una risposta di dignità alle persone. La risposta è arrivata e non era affatto scontata. La mobilitazione, le pressioni, così come l'alleanza con diverse associazioni, a loro volta si occupano del tema della non autosufficienza, hanno permesso di raggiungere questo risultato, a pesare in positivo anche l'interlocuzione con la politica, in particolare con i ministeri del lavoro e della salute. Ma che cosa prevede la legge oggi? Il disegno di legge contiene i principi e i criteri che il governo dovrà seguire nel configurare il futuro assetto di questa assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria per noi persone anziane. In linea generale questi principi sono tutti orientati a garantire la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della nostra vita. Il primo ambito è quello dell'invecchiamento attivo, dell'inclusione sociale e della prevenzione alla fragilità. Grande attenzione dovrà essere dedicata alle misure destinate a contrastare l'isolamento e la marginalizzazione, al riordino, al potenziamento e all'integrazione delle diverse misure di assistenza sociale, interventi di sanità preventiva a domicilio, ma anche allo sviluppo di interventi per la solidarietà e la coesione tra generazioni. Il nuovo sistema intende rafforzare un efficace sistema di monitoraggio delle diverse tipologie di prestazioni, ricomprese nei livelli essenziali e di prestazioni sociali e che devono essere integrati con i livelli essenziali e sanitari. Altrettanto importanti sono le misure in ambito economico e di copertura degli interventi, che di tanto abbiamo chiesto in questi anni. Tra le principali novità vi è l'istituzione del Fondo per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti, le cui risorse dovrebbero essere assegnate già con la prossima legge di bilancio. Su questo fondo viene prevista la sperimentazione di una prestazione universale a scelta del soggetto beneficiario, cioè a seconda dei bisogni della persona che ha la criticità della non autosufficienza può appunto chiedere una prestazione dedicata. Questa prestazione universale cosiddetta viene erogata sotto forma di trasferimento monitario o di servizio alla persona e che se utilizzata è sostitutiva dell'indennità di accompagnamento. Di rilievo sono le misure a sostegno dei caregiver o quelle destinate a incentivare la regolarizzazione del lavoro di cura prestato a domicilio dalla persona non autosufficiente. Quali sono i prossimi passaggi? Essendo un disegno di legge, entro pochi giorni da oggi dovrà essere trasmesso alla Camera e al Senato per l'approvazione definitiva entro marzo 2023. A questo punto, entrata in vigore la legge vera e propria, il Governo avrà il tempo fino al primo marzo 2024 per adottare i decreti attuativi e far partire concretamente il meccanismo di assistenza. Un termine tassativo essendo una riforma del PNRR e quindi rigorosamente legata al suo cronoprogramma attuativo e questa è una garanzia. Nel frattempo entrerà in vigore il nuovo piano nazionale per la non autosufficienza che anticipa alcune misure previste dal disegno di legge e delega ed è questa è una conquista epocale. Con quest'ultima notizia termina anche per oggi il nostro notiziario. Appuntamento come sempre fra 15 giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.